ciao ragazzi e bentornati sul mio canale e oggi farò un video diverso dal sorgio un qualcosa che forse potete intuire dal titolo e da questa maglia parla ora infatti in maniera piuttosto ampia del catalogo fender attualmente disponibile a oggi nel 2021 siccome ci sono talmente tante di quelle serie talmente tanti di quei modelli che mi sono posto diciamo la domanda mettendomi nei panni di chi è completamente avaro di fender ma se non fossi un bassista fender appunto magari vengo da esperienze con altre marche e voglio comprarmi un basso fender ma quale caspita devo scegliere cioè ce ne sono veramente tantissimi e riuscire a trovare quello giusto effettivamente è impossibile allora ho detto va bene facciamo un video cerchiamo di fare luce e capire quali sono effettivamente i modelli attualmente disponibili ma soprattutto quali sono le differenze tra un modello e quell'altro e quali sono poi quelli più convenienti o magari quelli più indicati per una determinata tipologia di bassista piuttosto che un'altra iniziamo la squire che rappresenta ormai da oltre 30 anni se vogliamo l'ingresso ufficiale nel mondo dei bassi fender e la casa ideale per tutti quei bassisti principianti che vogliono effettivamente comprarsi il primo basso e vogliono uno strumento classico l'ideale sarebbe proprio iniziare con un basso stile fender quindi con un jazz o con un precision square qui propone tre tipologie diverse di serie che vanno a rappresentare un po tutti i gusti e gli interessi che può avere un bassista piuttosto che un altro partendo dalla serie più economica che quella affinity che è stata in realtà rinnovata da pochissimo da qualche mese che io ho portato una recensione del modello precision quest'estate è una serie che propone a un prezzo di circa 200 250 euro l'ingresso ufficiale proprio nel campo degli strumenti fender style ufficiali chiaramente perché poi gli strumenti square sono strumenti ufficiali abbiamo un basso che è decisamente migliorato rispetto alla serie precedente è un classico precision con configurazione però pj quindi più versatile abbiamo split coil più jets bus più lo split coil e più il single coil del jets bus quindi uno strumento che ha una gamma sonora sicuramente maggiore rispetto a un classico precision tradizionale e poi abbiamo il classico jets bus sono strumenti realizzati devo dire molto molto bene con lo stesso hardware poi utilizzato con tutte le altre serie un hardware che non è proprio il massimo ma comunque fa il suo è abbastanza efficace mantiene abbastanza bene l'intonazione e anche se peccano un po diciamo nella resa sonora nei pick up perché sono big up ceramici che hanno un suono molto elevato a livello di volume ma a poca definizione sono piuttosto impastati infatti nella recensione appunto accennavo al fatto che avevo avuto parecchie difficoltà a registrare i vari video che poi ho pubblicato su questo canale proprio perché era effettivamente un basso abbastanza difficile da gestire a livello di volumi tutto sommato però sono strumenti veramente ben fatti costruiti benissimo considerato il prezzo è decisamente migliore rispetto ai vecchi affiniti quindi se magari qualcuno di voi ha avuto un affiniti in passato valutate seriamente i nuovi modelli andate a provare perché sono molto molto interessati poi se volete approfondire vi lascio il link in descrizione dove troverete la recensione e il sound test oltre volendo se andate a scavare un po più a fondo nel mio canale troverete sicuramente anche delle bass cover realizzate con questo basso la serie a affiniti offre jazz precision quindi i due super classici fender e poi ci spostiamo nella serie contemporary che invece rappresenta la parte un po più moderna della filosofia square dedicata proprio ai propri strumenti in catalogo diciamo che sono bassi questi della serie contemporary un po senza fai messi inserate nel senso che non sono né carne né pesce perché abbiamo da una parte il jazz bass versione passiva premetto che qui trovate soltanto il jazz bass non c'è ombra di nessun altro basso se non il jazz bass troviamo la versione contemporary passiva con un look esteticamente molto interessante perché comunque sono tutti strumenti che hanno la paletta matcher vengono offerti nella colorazione blu e rossa se non ricordo male e con ponte tra l'altro i master quindi un po più massiccio rispetto al classico lamirine utilizzato magari ecco nella serie affinity o nella serie classic vibe sono senza il fame senza lote perché comunque non è che differisce così tanto poi alla fine da un affinity cioè fondamentalmente la stessa cosa forse sono un po più accattivanti dal punto di vista estetico però tutto sommato non andrei a spendere quei 360 370 euro adesso non mi ricordo esattamente comunque quella dovrebbe essere più o meno la fascia di prezzo anzi 330 euro credo che costino non spenderei quei soldi in più rispetto a un affinity per prendere alla fine lo stesso basso che avete con appunto la serie affinity potrei valutare ecco potrei consigliarvi ecco di valutare l'acquisto invece della serie attiva della versione attiva dei contemporary che invece monta di serie pick up soft bar quindi con sonorità sicuramente molto più moderni e molto differente rispetto al classico jazz bass ma anche all'elettronica attiva quindi sono bassi molto più versatili e sono strumenti che effettivamente se magari suonate in una cover band avete bisogno di cambiare spesso il suono perché vi dovete adattare al brano che dovete suonare sono sicuramente molto più consigliati anche se vi dico la verità tutto sommato se dovete comprare un jazz attivo io non andrei su fender almeno in quella fascia di prezzo ma andrei su sire che sicuramente o sire insomma si chiama andrei sicuramente nell'acquistare un v7 che è molto molto meglio dal punto di vista qualitativo è fatto decisamente meglio rispetto a uno square contemporary infine chiudiamo questo cerchio dedicato a square con la serie classic vibe che rappresenta ormai da anni la serie di punta di casa square tant'è vero che le classic vibe i classic vibe sono ormai entrati a tutti gli effetti un po in quella serie di strumenti leggendari con caratteristiche qualitative talmente alte da addirittura per molti metterli vicino a offendere decisamente più costosi devo dire la verità io ho provato i vecchi classic vibe cinesi che sono quelli tra l'altro ancora oggi più amati e mi sono piaciuto veramente tanto sono infatti veramente molto bene poi io ho comprato di recente un precision classic vibe 70 della serie indonesiana perché da circa due anni la produzione è stata spostata in indonesia e vi devo dire che la qualità praticamente è la stessa cioè veramente cambia cambia poco ma cosa sono questi classic vibe sono praticamente gli strumenti square più vicini alla alla filosofia vintage di fender quindi sono più vicini al patrimonio storico che ha lasciato fender e che ha costruito grazie proprio alle versioni anni 60 anni 70 dei propri strumenti quindi abbiamo il precision anni 60 così come abbiamo il precision anni 70 ma abbiamo anche la versione anni 50 abbiamo il jazz anni 60 il jazz anni 70 abbiamo il mustang anni 60 abbiamo veramente bassi per tutti i gusti ma soprattutto bassi per chi ama diciamo gli strumenti vintage ad esempio a differenza della serie affinity qui abbiamo il manico che è lucido anche sul retro che è veramente molto bello quindi a quella diciamo quelle quell'aspetto giallastro tipicamente vintage come se fosse invecchiato un po finto devo dire la verità però effettivamente è molto bello da vedere alla fine anche molto bello da vedere sono rifiniti molto bene anche se io ho notato effettivamente qualche sbavatura quella ma di questo poi ve ne parlerò un po' più nello specifico quando vi porterò la recensione proprio del precision classic vibe 70 che ovviamente arriverà perché l'ho comprato apposta per questo anche se credo molto probabilmente che me lo terrò sono secondo me i bassi square con il miglior rapporto qualità prezzo quelli che assolutamente consiglierei per l'acquisto e sono strumenti che vanno bene per un principiante ma vanno bene anche per un bassista navigato anzi proprio i famosi classic vibe made in cina e sono quelli insomma ripeto che gommodi un'aura quasi leggendario ormai sono stati più volte usati anche da bassisti professionisti e proprio questa cosa ha alimentato la loro leggenda il fatto che squire usati da professionisti sembra una cosa impossibile ma in realtà succede successo e secondo me può succedere ancora perché sono strumenti veramente molto molto ben fatti quindi il mio consiglio se volete comprare uno squire e o prendete un affinity se volete spendere poco avere comunque un buon basso o se avete la possibilità puntate direttamente sul classic vibe a patto chiaramente di amare strumenti dalle caratteristiche un po più vintage dopo squire e finita la carrellata proprio dei modelli squire passiamo direttamente a fender messico che si pone a metà se vogliamo tra appunto squire e i fender americani anche qui abbiamo comunque sia una bella scelta di possibilità sui modelli da comprare abbiamo principalmente quattro serie che sono la serie player la serie vintera la serie player plus e la serie road born ci sarebbe anche la serie artist signator ma rappresenta un po un discorso a sé un po come i custom shop perché sono modelli unici che si ispirano ai bassi utilizzati da bassisti famosi come può essere il basso di steve harris o il basso di flea de red dot quindi comunque ognuno ha delle caratteristiche sue quindi sarebbe impossibile poi andare a parlare dello specifico parliamo dei bassi di serie in questo caso i player rappresentano i nuovi standard messicani sono stati sostituiti se non erro circa tre anni fa a estate 2018 e hanno leggermente migliorato la qualità delle rifiniture sono un po più curati un po più belli anche da vedere hanno cambiato il logo è passato da quello anni 70 a quello spaghetti abbiamo nuovi pick up che sono in anni co5 non più ceramici come vecchi player sta e come i vecchi standard messicani ma meccaniche ponte sono praticamente gli stessi quindi sono discreti sono funzionali anche se non sono proprio il massimo della qualità sono strumenti che nella fascia di prezzo intorno ai 650 anche 700 euro sono molto buoni ma non li consiglierei più di tanto nel senso che se volete un precision con caratteristiche un po più moderne rimanendo comunque sempre sul classico sul basso passivo un precision così come un jets ma in realtà nella serie player trovate anche il jaguar che è molto interessante in configurazione pj se volete effettivamente un basso con questo tipo di caratteristica potrebbe anche andare bene ma personalmente io mi sposterei sulla serie successiva sulla serie vintera che sono praticamente i classic vibe made in messico quindi strumenti con caratteristiche ancora più fedele in realtà agli strumenti originali degli anni 50 degli anni 60 sono però strumenti con una selezione dei vendi migliore rispetto chiaramente ai classic vibe e rispetto ai player hanno un hardware in dotazione migliore in generale sono strumenti con un rapporto qualità prezzo eccezionale d'altronde sono gli eredi dei vecchi classic della vecchia serie classic 50 60 70 sono che hanno rappresentato per tantissimi anni forse ancora oggi rappresentano i fender in assurdo con il miglior rapporto qualità prezzo in generale tra messico japan e usa non fatemi ingannare dal fatto che questi strumenti hanno la scritta dietro la paletta made in messico perché credetemi a livello qualitativo non hanno nulla da invidiare secondo me a strumenti americani sono veramente molto molto ben fatti infine abbiamo le due serie po più costose che sono la serie player plus e la serie road world partiamo da quest'ultima la road world non è nient'altro che la vintera però in versione relic quindi abbiamo praticamente strumenti ispirati agli anni 50 e 60 quindi con il manico ad esempio nel caso del precision bello ciccio bello grosso abbiamo quindi quel suono classico vintage di quell'epoca ma relic quindi avete praticamente il basso già ammaccato già graffiato per chi è amante di questa moda che io sinceramente non capisco in alcun modo però se vi piace in se vi piace il basso relic e avete 1300 euro a disposizione per un basso messicano ammaccato buon per voi insomma cioè sicuramente ve lo consiglio perché sicuramente poi sono strumenti eccezionali che suonano benissimo però io personalmente eviterei di spendere 1300 euro per un road world vi consiglio più un vintera che è nuovo però col tempo lo fate diventare cui relic infine i player plus che sono diciamo usciti veramente da poco sono usciti credo da un mese due mesi più o meno e sono nient'altro che gli eredi della serie deluxe quindi la versione moderna di tutti questi bassi che abbiamo parlato quindi la versione più orientata verso il moderno del classico precision objects sono bassi attivo passivi con pick up noiseless che sono praticamente gli stessi usati nella serie american ultra anche se sicuramente saranno di qualità leggermente inferiore rispetto alle loro controparti americane abbiamo il ponte i mass quello bello grande grosso che c'è anche nella serie american ultra quindi praticamente sono degli american ultra del versione messicana e sicuramente se volete un basso moderno con caratteristiche versatili quindi un basso veramente da spendere per suonare tanto dal vivo in particolar modo e non volete spendere i 2000 euro che servono per comprare un american ultra sicuramente il player plus e la scelta migliore finita la carrellata dei bassi messicani passiamo infine ai bassi fender americani che sono praticamente il top per quanto riguarda la qualità costruttiva a eccezione chiaramente dei bassi custom shop e che sono poi alla fine ecco i bassi un po più ambiti da chi ama effettivamente è effettivamente fender alla follia sempre tralasciando i custom shop perché quelli rappresentano un discorso a parte poi il santo graal e il custom shop però chiaramente ogni custom shop appunto è differente dall'altro costano 3000 4000 5000 euro costano tantissimi soldi noi qui parleremo soltanto dei bassi che sono nel listino fender e quelli che vengono prodotti a livello diciamo industriale partiamo dagli american performer che sono diciamo gli entry level dal punto di vista del prezzo sono strumenti di impostazione molto classica ma sono strumenti eccezionali costruiti in maniera eccellente tra l'altro io ho recensito per chi lo posseggo un fender precision american performer e vi lascio anche qui il link in descrizione per potervi vedere la recensione e effettivamente sono bassi americani al 100% a differenza magari dei vecchi american special o al way one che effettivamente peccavano un po' in alcune caratteristiche che erano un po' riciclate dai bassi messicani qui abbiamo proprio meccaniche americane le stesse che trovate negli altri strumenti di fascia americana pick up americani pensate appositamente per questa serie il sistema tono grace bucket che permette quando chiudete il tono di non enfatizzare le basse quindi a differenza degli altri strumenti fender quando chiudete il tono che quando chiudete il tono avete comunque un suono molto fangoso molto bassoso eccessivamente gonfio qui invece anche a tono chiusa avete un suono molto definito e anche molto più spendibile magari per suonarci da vivo o per registrare costano 1200-1300 euro di listino costerebbero 1440 ma alla fine vi trovate più o meno 1300 euro quello con cui fender è riuscita a risparmiare è stata l'eliminazione della custodia rigida in favore della custodia morbida che è un po' di infima qualità devo dire la verità però ha permesso evidentemente di abbattere tantissimo i costi e l'assenza del ponte con le corde passanti queste sono le due caratteristiche reali che differenziano gli American Performer rispetto agli American Pro 2 che invece sono diciamo i bassi di punta di fender americani il classico fender americano ambito da decenni sono strumenti un po' più rifiniti rispetto agli American Performer con dettagli un po' più premium se vogliamo e soprattutto hanno la custodia rigida e hanno anche il ponte con le corde passanti che è una caratteristica che a livello produttivo comunque effettivamente aumenta un bel po' il prezzo dello strumento certo vi dico la verità secondo me 1900 euro per uno strumento che alla fine è uno standard anche se moderno anche se americano sono un po' tanti nel senso che la serie precedente la serie American Pro 1 differenziava dal si riferiva diciamo dalla serie American Performer con una differenza di circa 300 euro che ci potevano stare perché in quel caso nell'American Performer mancando la custodia morbida e mancando il ponte con le corde passanti che erano le due caratteristiche principali effettivamente questi 300 euro erano giustificati la differenza di prezzo in più per quanto riguarda appunto l'American Pro sull'American Pro 2 considerando che queste due sono sempre le caratteristiche che rimangono le vere differenze con l'American Performer è che ci sono giusto solo alcuni ritocchi un po' più moderni come ad esempio il body che è scavato in prossimità della fine del manico nella parte più alta della tastiera per agevolare proprio l'accesso alla tastiera alta, il capotasto in osso, magari i tasti con i bordi arrotondati anche se vi dico la verità il Performer pure le ha ha portato praticamente a una differenza di prezzo che adesso è di ben 500 euro che insomma cominciano a diventare veramente tanti per portarsi a casa un American con una custodia rigida e con il ponte con le corde passanti secondo me è un po' tanto però è anche vero che sono strumenti eccezionali io l'ho provato, ho provato un American Pro 2 Jets sono favolosi se siete un professionista, se siete professionisti, se siete retornisti è sicuramente il basso forse più indicato perché l'American Performer magari è un basso un po' più da tournée da portare in giro per suonarci dal vivo ecco l'American Pro è un basso più da studio proprio dedicato per i professionisti però tutto sommato non ha un rapporto qualità prezzo eccezionale secondo me l'American Pro 2 costa troppo rispetto a quello che offre poi abbiamo gli American Original che sono praticamente l'equivamento dei Classic Vibe Squire o dei Vintera Fender Messico ma in questo caso abbiamo veramente un basso con caratteristiche vintage piuttosto importanti e con appunto un'imitazione di quelle caratteristiche più fedele tra queste tre serie è uno strumento per chi ama chiaramente il vintage non solo il vintage dal punto di vista estetico ma chi ama proprio il suono vintage dei bassi Fender nulla da dire, sono strumenti eccezionali ma personalmente non lo comprerei mai perché preferisco avere un basso con caratteristiche un po' più moderni un po' più all'avanguardia piuttosto che un basso comunque a livello concettuale è rimasto un po' indietro e rappresenta delle scelte secondo me ormai fuori moda ad esempio la regolazione del Thrust Road dovete praticamente togliere il manico per regolare il Thrust Road su questi American Original cosa che non dovete fare con gli altri ad esempio le meccaniche che sono veramente molto pesanti a differenza dei modelli come American Performer o American Pro 2 che sono meccaniche leggere e quindi riducono sensibilmente il peso dello strumento insomma sono strumenti per carità eccezionali però a patto che vi piaccia chiaramente il vintage e comunque il suono vintage infine chiudiamo la carrellata con gli American Ultra che sono praticamente i Player Plus marchiati in Merinosa hanno sostanzialmente le caratteristiche identiche ma la qualità dei legni dei pickup e delle meccaniche è sicuramente migliore quindi se volete un coltellino svizzero con cui farci tutto e se siete un turnista che suona veramente con chiunque in quel caso è proprio lo strumento ideale per qualsiasi bassista a patto di spendere poi quei 2.100 euro 2.200 euro che servono per comprarsi un American Ultra e sicuramente non sono pochi per concludere secondo me c'è da dire questo Fender oggi offre il diciamo un catalogo talmente vasto come mai probabilmente nella sua storia per cui praticamente è impossibile non trovare il basso Fender o il basso Simil Fender adatto alle proprie esigenze se siete un principiante avete la possibilità di comprarvi un Affinity o un Classic Vibe amate il Vintage potete prendere un Vintera potete prendere un American Original o se avete poco budget prendete un Classic Vibe se amate il Moderno potete tranquillamente valutare l'acquisto di un Player Plus se avete più soldi prendete un American Ultra oppure se siete magari a corto di possibilità potete comunque magari acquistare uno Square Contemporary se invece amate soluzioni più tradizionali più standard andate magari per un Player o per un American Pro oppure se volete uno strumento che abbia un buonissimo rapporto qualità-prezzo e volete rimanere in territorio americano comprare un American Performer insomma praticamente è impossibile non trovare il basso giusto per le proprie esigenze e questo è un bene è un bene per noi perché abbiamo la possibilità di scegliere in base alle disponibilità economiche ma soprattutto anche di poter provare e sperimentare più bassi possibili nel catalogo Fender questo perché non dimentichiamoci che la cosa principale rimane sempre quella di provare gli strumenti perché gli strumenti vanno provati e nel momento in cui entrate in un negozio ben fornito proprio grazie a questo catalogo enorme e bastissimo che offre oggi Fender avete poi la possibilità di trovare effettivamente il basso che fa per voi ma prima provatelo mi raccomando cerchete di capire se veramente quel basso fa per voi se non dovesse essere diciamo affine ai vostri gusti passate un altro provate un altro magari alla fine troverete quello che vi interessa oppure semplicemente capirete che i bassi Fender non fanno per voi comunque se io vi ringrazio per questa per avermi fatto compagnia in questa chiacchierata per aver visto soprattutto questo video vi invito a lasciare un like a commentare e intanto vi anticipo che a breve arriverà la recensione di questo qua Square Classic Vibe 70 quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella così resterete sempre aggiornati sui miei video ciao grazie a tutti